e signori e signori siamo ritornati, siamo ritornati in diretta e come aveva anticipato poc'anzi la nostra carissima amica Lisa Nota, adesso partiamo con un'altra rubrica, fatemi mettere la scufietta, allora io chiamo, tanto ce l'ho già lì collegato, pronto, ciao Dennis Colombo, ciao caro, ciao Andrea, ciao a tutti, buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio allora buon pomeriggio a te, anzi adesso lo posso dire già a voi, rubrica per i nostri cari amici a quattro zampi, io so che tu a fianco a te c'è un ospite, intanto poi manderò vari luoghi o quant'altro anche di quello di cui stiamo parlando, quindi saluto con grande piacere il consigliere comunale, Marius Lapascu è coordinatore, che è il coordinatore tra l'amministrazione comunale chiaramente e il tavolo di lavoro che è adesso del mondo animale che andremo ad approfondire, buon pomeriggio Marius, buongiorno, buon pomeriggio allora Dennis e Marius, mi fa piacere avervi qui, Dennis sarà una rubrica che noi porteremo avanti tutti i sabati, sempre dalle 15 alle 15.30 con varie sfaccettature, se riuscirai ad avere anche altri ospiti, vari ospiti Sì, esatto, intanto posso interromperti un attimo dicendo, volevo ringraziare te e tutto lo staff di Pinarolo Web Radio per la disponibilità ad inserire nel palinsesto della radio comunque uno spazio dedicato tutto agli animali e questo io spero davvero, mi auguro che la sensibilità sia ripagata dagli ascolti, insomma che il tema sia interessante e che possa trovare insomma consenso nel pubblico, quindi io con un po' di emozione provo a mettercela tutta e quindi ti ringrazio però ecco Guarda, sembra una frase fatta però se andiamo a vedere la verità, comunque siamo tra amici perché comunque chi ti ascolta sono persone che ti conoscono, vi conoscono e quindi comunque rimaniamo sempre tra amici in ogni caso, anche a me, anche per mezzo della radio però quindi l'emozione forse è subito, dai poi Dennis, via col vento, via col vento Allora io per iniziare se me lo permetti avrei una domanda, insomma per cominciare un po' ad addentrarci in questo argomento e la domanda la voglio rivolgere a Marius, se posso, Marius posso? Ok, grazie, allora intanto come nasce l'idea appunto dall'amministrazione comunale di Pinerolo di creare una rete di collaborazione appunto tra le istituzioni e le associazioni di volontariato del territorio, come nasce quest'idea? L'idea è partita dal fatto che tante volte magari due associazioni avevano in balo lo stesso progetto ma le associazioni tra di loro non si conoscevano e come si dice che l'unione fa forza, quando lavorano più persone per un obiettivo si arriva prima a concludere quell'obiettivo e poi l'amministrazione attuale ha istituito più tavoli di lavoro tra cui c'è anche il benessere animale, per quello del benessere animale faccio io come riferente grazie a Dennis, grande personaggio, è un personaggio, vero, vero, io per come l'ho conosciuto però in senso più che positivo assolutamente quindi è una bella cosa. sul tavolo benessere animale diciamo che ci siamo un paio di associazioni che riusciamo ad andare d'accordo e a presto ci saranno dei sviluppi, di più mi raccolterà il sottoscritto quindi si sta allargando, si sta sviluppando sempre di più questo tavolo di lavoro per la sensibilizzazione sugli animali, insomma è tutto quello che ne compete, si sta allargando e si sta sviluppando da quanto sto capendo. Sì esatto, noi praticamente il tavolo di lavoro mondo animale, come diceva Marius, nasce appunto dall'idea di mettere insieme più associazioni e questo è assolutamente un valore aggiunto perché ed è assolutamente vero le associazioni, il mondo del volontariato in genere è abituato un po' a lavorare a comportamenti stagni, nel senso che si lavora in modo solitario, in realtà l'intento dell'amministrazione è proprio quello di creare una rete partecipata in modo tale da mettere insieme anche in un periodo di risorse scarse, di questa epoca storica in cui viviamo, di mettere insieme delle risorse per portare avanti un progetto e in questo caso l'amministrazione, nella persona dell'assessora Lara Pezzano, c'era l'intento di sostenere i progetti presentati dai tavoli. Per cui noi come tavolo di lavoro che attualmente è composto dall'associazione I miei amici, io sono il presidente, dall'associazione Lega Abolizione Caccia che è rappresentata da Barbara Fera e poi da un'altra associazione che si occupa di Equini che è il Centro Spot Equestre Giro Pinerolo che è rappresentata da Franco Bianciotto. Abbiamo in questi mesi fatto un lavoro, ci siamo trovati e soprattutto anche con la presenza di Marius, ci siamo trovati in questi mesi e abbiamo fatto tutta una serie di incontri e se vuoi così posso anche accennarti un po' il lavoro che abbiamo fatto, ma siamo partiti da un'analisi del contesto, del territorio, della società, siamo partiti sul fatto che constatando che sostanzialmente la nostra società sta andando in direzione sempre di più sulla sensibilità verso gli animali. Se facciamo anche solo un esempio rispetto a 40 anni fa dove i cani e i gatti erano confinati all'esterno delle nostre abitazioni, avevano un ruolo di difesa per il cane, ad esempio che doveva avvertire se arrivava l'intruso, oppure i gatti dovevano tenere alla larga i topi, oggi questi stessi animali sono entrati a pieno diritto nel nostro contesto familiare, sono membri della famiglia, non fuori dalla casa ma sono dentro. Anche la normativa vigente è in direzione della sensibilità degli animali, non considerandoli più come degli oggetti ma dei soggetti in quanto portatori comunque di emozioni e di sentimenti. Questo è stato riconosciuto anche dal trattato di Lisbona, cioè gli animali sono esseri senzienti. Non ci sono più, anche qua la società si sta evolvendo, non c'è più solo l'attenzione verso il cane e il gatto, ma rientrano nella sfera affettiva anche altri animali, i classici animali da rendito. Se pensate ad esempio che oggi anche solo rispetto a qualche anno fa, se voi entrate in un supermercato è facilissimo rendersi conto che qualcosa sta cambiando, cioè è facilissimo trovare proteine vegetali negli scappali, ad esempio le cose che spettano ormai sono alla portata di tutti, non sono più i negozi specializzati, quindi vuol dire che i vegetariani e i vegani fanno come percentuale, come ho dato, sono di circa 7,5% della popolazione ed è un dato che è in continua crescita. Quindi ovviamente questo è un segnale che la società sta cambiando, i tempi stanno cambiando ed è necessario porre attenzione al benessere animale. Poi se posso aggiungere, va anche detto che oggi gli animali hanno un ruolo attivo nella società, non solo come portatori di affetto, ma molti clienti, istituzioni, eccetera, creano un accordo con gli animali per sostenere delle attività umane. Parlo della pet therapy, anche qui a Pinerolo abbiamo delle realtà importanti di pet therapy, cioè uomini e animali svolgono un'attività importante per aiutare delle persone. Poi abbiamo avuto anche i casi che si sono verificati quando ci sono le calamità naturali. Importantissimi gli animali durante quell'assolutamente. Assolutamente, quindi i cani sono davvero importanti per ritrovare le persone scomparse, eccetera. Quindi voglio dire, il tavolo di lavoro in questi mesi ha fatto tutta un'analisi del territorio, il cambiamento della società e abbiamo presentato un progetto, un progetto importante che è stato anche presentato all'amministrazione e che ha avuto il sostegno, l'avvallo e quindi noi contiamo che verso ottobre di portarlo avanti. Adesso questo lo voglio approfondire tra un attimino perché almeno è un progetto, quindi è da progettare e comunque è da ben approfondire. Però vorrei fare una domanda, una domanda di nuovo a Mario, se lo chiamo di nuovo in causa. Allora Mario, ad un certo punto della propria vita Dennis è partito e è venuto in comune e ha detto, buongiorno signori, io voglio mettere in tavola all'amministrazione comunale questa cosa qui, dell'associazione mondo animale. Il comune ha detto sì e tutti si è fatto carico di diventare coordinatore. Voi andate a cercarlo. Ah, voi l'avete cercato. Allora, più al merito ancora all'amministrazione comunale. Allora, giro la frittata, allora Dennis ha detto sì, grazie, con piacere. Se voi non siete andati a cercare il motivo, il perché principale. Perché? L'attuale amministrazione siamo andati noi in incontro alle associazioni. Non sono venute le associazioni da noi. Noi siamo stanzi, ci siamo aperti. In genere è il contrario. Le associazioni e le associazioni ci hanno proposto, ogni associazione ci ha proposto i suoi progetti. Certo, in genere dall'esperienza personale io devo andare in comune e dire, signori sono l'associazione, invece è molto meglio, cioè bello, bello questa cosa qui. È una bella apertura, è vero, assolutamente. Io, è già capitato di andare in comune, non qui, dove ero prima. Signori, buongiorno, sono Andrea e vorrei, invece no, che siete voi che avete cercato le varie associazioni, quindi l'amministrazione comunale, onoro al merito, assolutamente sì. Quindi la motivazione che il comune si è spinto a cercarle era per un'apertura mentale e comunque di... Il mondo del volontariato, noi abbiamo capito che il mondo del volontariato è una ricchezza per territorio. Certo, è vero. E dobbiamo darle voce a queste persone. Assolutamente, certo. Possiamo lasciarli lì che parlano e nessuno non li ascolta. Come spesso capita. Ad ascoltarli le persone, li invogli anche di proporre dei progetti, di fare delle attività. Certo, vero. Almeno non viene fuori la classica frase, vabbè, ma che lo faccio a fare? Tanto non mi sento, non mi ascoltano. E invece... perché tanti hanno delle belle idee e a volte non sai neanche come esporli, come metterli sulla carta per portarli in comune. Invece, parlando direttamente con le persone, riescono a metterti in chiaro i loro progetti, poi dopo insieme si mette sulla carta. Non so se mi finissimo, se mi mette sulla carta, uno lo studia, lo fa, poi man mano si costruisce sempre di più. L'altra parte della casa si fa con un mattone dopo l'altro, quindi è giusto il pensiero, o perlomeno, a mio modesto parere, secondo me è giustissimo il pensiero che ha avuto l'amministrazione. Certo. Vorrei passare a Dennis. Vorrei dirti ancora, Marius non l'ha detto, lo ricordo, che Marius è il consigliere che ha avuto una delica dal sindaco per la realizzazione delle aree cani a Pinerolo. Magari se lui è disponibile potremmo dedicare magari una puntata apposta per le aree cani. Molto importante. sui lavori, eccetera. Però si può dire che, insomma, le aree cani ci sono, ci sono quasi. Quindi facciamo sapere che ci sono e poi possiamo approfondire più che volentieri il discorso, certo. Ne faremo una diretta dedicata, se per voi va bene. Per me va benissimo, sono contentissimo. Dennis, ti posso fare una domanda riprendendo parte del discorso? Penso che ti ho interrotto apposta, non per qualche motivo. Ti ho interrotto apposta per approfondirlo, perché vorrei capire da te intanto come è composto questo tavolo di lavoro nel mondo animale e quali sono i progetti, insomma, che state portando avanti o comunque che state costruendo. Sì, certo. Ma allora, come ho detto, il tavolo di lavoro è composto da queste tre associazioni che sono i miei amici, la LAC e il CSE, il centro sport equestre di Gira di Pinerolo. È stata aperta a tutti, sono gli unici che sono messi a disposizione. E' arrivato, uno è arrivato. Ecco, il tavolo appunto ha, come dicevo, fatto tutta l'analisi del contesto sociale, eccetera, e poi ha presentato questo progetto che secondo noi è un progetto davvero importante, innovativo e anche di qualità per il territorio, perché intanto alcuni dati sui cani e sugli animali di Pinerolo. Noi sappiamo che, insomma, come al 31-12 del 2016, l'ultimo aggiornamento che avevo fatto consultando Arvet, che è il centro dove vengono raccolti tutti l'anagrafica dei cani presenti nella regione Piemonte, e a Pinerolo i cani censiti, quindi registrati di proprietà, cioè a Pinerolo ci sono circa 5.000 cani, ok? Ci sono un totale di famiglie che hanno un cane, per un totale di 5.000 cani sul territorio. A questi, a questo dato che, insomma, è abbastanza consistente, vanno aggiunti tutte le famiglie che hanno un gatto, che purtroppo non abbiamo dati sulla quantità dei gatti presenti nel Pinerolese, e a questi vanno aggiunti ovviamente tutti gli altri animali, uccellini, coniglietti, eccetera. È vero, vero, che non si pensa. Esatto, quindi c'è davvero un mondo che è composto, cioè di cui gli animali popolazioni di 36.000 abitanti. Esatto, su una popolazione di 36.000 abitanti. No, quindi c'è davvero una grossa fetta di cittadini che convivono con gli animali. Per cui prima ancora, come tavolo, prima ancora di creare un evento, un'azione di intervento diretto, il nostro intento era quello di creare uno spazio dedicato alle politiche di benessere animale, per cui la nostra proposta è stata quella di creare, e quindi avrà avvio a ottobre nel mezzo di quest'autunno, insomma un ufficio diritti animali in comune. L'ufficio tutela animali, stai dicendo? L'ufficio tutela animali? Esatto, un ufficio diritti animali, un ufficio tutela animali, dove sarà praticamente messo a disposizione dall'amministrazione un locale idoneo, uno spazio fisico, in cui sarà come punto di riferimento per la cittadinanza, che ha necessità di avere delle informazioni, delle, 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 sarà un, ecco, un punto di riferimento per i cittadini che hanno bisogno di avere informazioni per quanto tutto, per quello che riguarda i nostri amici animali, e questo credo che sia assolutamente una cosa innovativa e importante per la nostra comunità di Pinerolo. E certo, assolutamente sì, perché comunque, devo chiedere una cosa, eh sì, ma dove vada a chiedere, ci sono, ci risuonano in testa mille, mille parole, se andiamo a vedere a me per primo, è già capitato, però per lo meno, insomma, c'è un, un punto, un di riferimento, come giustamente dicevi, è importante, molto importante. Perché in questo momento non esiste una, 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 una struttura, un ufficio di raccordo anche, no, che possa mettere, che essere di raccordo, non solo tra le associazioni, no, perché, come dicevo, l'ha ricordato bene Marius, noi in questo momento siamo tre, che, eh, stiamo lavorando a questo progetto, però ci sono molte altre associazioni sul territorio che si occupano di benessere animale, no, per cui bisognerebbe il lavoro, sarebbe quello di coinvolgere, di implementare, eh, il numero di volontari, anche di, eh, insomma, convolgere anche i cittadini interessati a fare volontariato, a partecipare, quindi c'è tutto un discorso di raccordo, non solo, eh, il raccordo a livello delle associazioni, ma anche a livello dei vari uffici comunali, in cui oggi il settore degli animali è un po' suddiviso in vari uffici, non so, mi viene da pensare, una parte se ne occupa la polizia amministrativa, una parte la polizia municipale, una parte l'ambiente, eccetera, quindi sarebbe un punto di riferimento per la comunità, ecco, e credo che sia davvero un valore aggiunto. Direi di sì, anche perché a volte bisogna fare mille giri per poter sapere una cosa, perché non si va nel punto giusto. Esatto, per preparare un po' e per dare anche un'idea di un lavoro che non è proprio semplicissimo da organizzare, anche per l'idea della preparazione, adesso stiamo da qui a ottobre, stiamo preparando un corso di formazione, un corso di formazione che ha lo scopo, uno, di reperire volontari che, e quindi faccio un appello a tutte le persone che fossero interessate a fare del volontariato nel settore degli animali e a occuparsi del futuro ufficio, possono contattare me, possono contattare Mario, possono contattare in qualche modo l'amministrazione, insomma i dati verranno date tutte le informazioni e verrà appunto, come dicevo, fatto un corso di formazione in cui verrà, diciamo, spiegata tutta la politica di benessere animale nei suoi ampi aspetti, ci sarà la parte legislativa, la parte di diritto, ci saranno delle parti pratiche, insomma, quindi un corso abbastanza completo. Certo, cioè, beh, è importante, è importante perché, anche per non fare confusione sotto mille aspetti, perché l'animale, sì, l'animale è l'animale, però ci sono anche tante cose da dover sapere, per chi fa il tuo lavoro, che si occupa di tutto ciò, ci sono mille cose immagino che, ma proprio, mille cose che più andiamo avanti e più aumentano, secondo me. Forse se posso dare una chiave di lettura io, così, da profano, può essere un bene, perché vuol dire che andiamo sempre a tutelarli, comunque sempre di più, e sempre a considerarli meno, lasciami passare il termine così, animali, ma sempre più membro della famiglia, membri della famiglia, membri di vita quotidiana, e sempre meno animali buttati lì, in poche parole. Oltretutto il ruolo dell'ufficio è quello di essere un po' anche, di promuovere la relazione. Certo. Cioè, ma la relazione vuol dire a 360 gradi, tenendo anche in considerazione che ci sono persone in cui trovano delle insofferenze, no, nella vicinanza con gli animali. Sì. Per cui in qualche modo bisogna educare in modo trasversale, ecco, cioè, educare, no, io penso ad esempio, educare i proprietari di cani a raccogliere, ad esempio, le deiezioni. Sì. Questo provoca il nostro problema. In quel lato lì c'è ancora il pensiero di magari mille anni fa che ovunque ci troviamo va sempre bene, se così vogliamo dire. Puoi educare però a non eccessivamente l'ansia dell'animale, cioè, voglio dire, è anche bello avere a convivere il tessuto urbano, ecco, convivere con gli animali, no, voglio dire, se nel nostro condominio c'è una colonia felina, se questa è ben curata e sana, eccetera, io penso che le persone possono convivere con gli animali, ecco, non ci deve essere eccesso da entrambe le parti, ecco, io credo che l'uomo dell'ufficio deve essere proprio promuovere una corretta relazione uomo-animale, ecco. Tenis, tu volevi fare un appello, se non erro? Sì, io volevo fare un appello, io non so se hai... Lo sto mandando in onda, la foto che mi ha inviato. Noi abbiamo questo gatto di cui stiamo cercando disperatamente una famiglia, è un gatto, come dicevo, che abbiamo trovato in una colonia felina di cui ci stavamo occupando, è un gatto che è stato abbandonato, è un adulto, non può essere più reinserito in libertà perché non è abituato a vivere libero, è un gatto di casa, ha quattro anni e in questo momento è in stallo, lo sta tenendo temporaneamente una nostra volontaria, però abbiamo bisogno di trovare una casa, è un gatto dolcissimo, ma veramente dolcissimo, ideale per una persona sola che ha bisogno di compagnia, è un gatto sano, già sterilizzato, ha solo proprio bisogno davvero di trovare una famiglia e quindi l'appello è questo, se qualcuno ha bisogno di, cioè anche sulla mia pagina Facebook, possiamo andarlo a vedere insieme. Di pure, ovviamente, grida a pieni polmoni la tua pagina Facebook. Sì, la mia pagina Facebook è Denis Colombo, semplicissima, potete contattarmi e mandarmi un messaggio, possiamo poi andare a vedere insieme il gatto. Perfetto, perfetto, quindi anche noi nel nostro piccolo, spero di riuscire a darvi una mano io e tutto lo staff di Pinerolo Web Radio per dare una casa a questo micetto, che io lo vedo in foto, adesso lo stanno vedendo tutti in verità, e speriamo, speriamo il più presto possibile. Grazie mille. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Denis e Marius, sembra, sembra, parole, parole, ma intanto abbiamo fatto la nostra mezz'ora di diretta così che è volata, come dicevo, tra amici quando si ci diverte vola a tempo. È andata liscia. Assolutamente, ma io non ero più che sicuro. Voglio ringraziare e salutare, insomma, Marius Lapasco, il consigliere comunale, ricordo che è il coordinatore tra l'amministrazione comunale di Pinerolo e appunto questo tavolo di lavoro, Mondo Animale, che insieme a te, a te e Denis. Grazie mille di essere intervenuto e di essere stato ospite di Denis, che ci ha fatto una bella sorpresa. Grazie a Denis e ringrazio te. Allora, Denis, per noi l'appuntamento lo rinnoviamo sabato prossimo, sempre dalle 15 alle 15.30. Sì, sabato prossimo, se posso dare un'anticipazione, mi piacerebbe affrontare il tema dei cavalli, loco degli equini, ci sarà appunto con me questa associazione che si occupa di equini e insomma cercheremo di entrare in questa sfera che è sconosciuta. Ci sono tanti luoghi comuni che dobbiamo abbattere perché i cavalli sono animali intelligentissimi e bellissimi. Molto, 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 molto volentieri. La cavalleria. Eh beh, sì, voglio dire, ma poi voglio dire, a parte qui intorno, poi siamo a Pinerolo, insomma, qua intorno siamo pieni di maneggi, quindi io credo che sia un discorso, un argomento molto sentito, immagino. Sì, interessante, interessante perché ne scopriremo delle belle, ecco, direi proprio così. Quindi prossima diretta sabato ore 15, 15, 15.30 con, diamo un titolo così da prima Machito, il mondo è qui, non... sì, dai. I cavalli questi sconosciuti. I cavalli, scusami? I cavalli questi sconosciuti perché sono sconosciuti. Ah, ok, aggiudicato, aggiudicato. Io vi ringrazio tanto di nuovo e vi congedo, vi libero così non vi trattengo più. Denis, noi intanto ci sentiamo per la prossima diretta. Grazie mille e buona giornata a voi. Grazie, grazie, ciao. Ciao.